Angelo Silesio, Angelus Silesius, nato Johannes Scheffler, 1624-1677, italianizzato in Silesio, poeta e mistico tedesco. In Il viandante cherubico dice il mio migliore amico è il mio corpo e il mio peggiore nemico. Esso mi lega e mi trattiene anche quando mira al bene. Lo detesto e lo amo e quando dobbiamo separarci mi strappo da esso con gioia e con dolore. Commento Il corpo fisico è una creazione energetica della coscienza che ha bisogno di condensarsi in materia. Il mistico soffre il corpo fisico e nello stesso tempo lo ama perché intuisce che il corpo è ancora il suo strumento evolutivo.